Scusate per l'errore ma nella riflessione di questa mattina ho detto martedì 2 dicembre, è probabilmente un lapsus legato al fatto che il martedì è il secondo giorno della settimana e coincide con il numero 2, è mercoledì ovviamente, 2 dicembre, capita di sbagliare, testimonianza della nostra fragilità. Scusate ancora e buona giornata.